Eccoci qua. Buonasera a tutti, siete tanti e noi ne siamo felici. D'altronde Terni risponde sempre con grande attenzione alle iniziative di Umbria Libre. È sempre un piacere per me calare da Perugia qua in piazza e parlare di libri in questo posto splendido che è la BCT, un luogo che a Perugia invidiamo, vi confesso. Il piacere è doppio quest'anno perché parlo di libri con Daniele Mencarelli che è un grande scrittore. Io e Daniele ci siamo conosciuti un anno fa a Umbria Libri, sempre ma a Perugia, e in quell'occasione avevamo presentato il suo romanzo precedente, che è Tutto chiede salvezza. Lo ricordavamo adesso, è uscito un quarto d'ora perché era del lockdown del 2020. Un quarto d'ora esatto, diciamo così. E invece, sempre tornare, di cui parliamo oggi, eccolo qua, è uscito poche settimane fa. La situazione è un'altra rispetto a loro. Mi ricordo che erano anche giorni molto ansiogeni a Umbria Libri perché eravamo agli sgoccioli di altre chiusure. Abbiamo fatto l'incontro in mascherina e io per non portare la mascherina ho iniziato a bere acqua. Da inizio a fine incontro, a metà incontro, avevo un piccolo problema di vescica perché dopo una bottiglia d'acqua... Confermo che è andata così. Giorni quindi davvero di grande tensione. Quelli, pareva che addirittura saltassero parte delle cose di Umbria Libri perché eravamo sul punto di chiudere tutto. Insomma, in Umbria stava in particolare arrivando una delle tante valanghe che ci hanno sommerso in questi mesi, lunghi mesi di Covid. Oggi siamo più rilassati, devo dire. E questo è un libro molto bello, quindi da un lato è molto facile parlare di libri belli, dall'altro anche difficile. Perché questo romanzo si legge con grande partecipazione, come sempre si fa con i lavori di Daniele. Ma c'è una componente in più che è quasi in fida. Cioè il protagonista è un 17 anni. Io mi sono reso conto, leggendolo, che tutti ci innamoreremmo di un protagonista così. Perché avere 17 anni è una meraviglia che non si scorda, no? Forse è più faticoso entrare nella mente, nei gesti, negli atteggiamenti di gente che ha per paradosso anche un'età più vicina. Però i 17 anni continuiamo ad averceli sempre, per certi versi. E infatti questo romanzo l'hai scritto al passato prossimo, di fatto. Non è un dettaglio, perché 17 anni tu ce l'hai vivuti 30 anni fa, no? E quindi cosa meglio del tonitruante passato remoto per andare 30 anni a dietro. Invece no. Tu questo romanzo, e cominciamo così, l'hai scritto come se fosse tutto fosse accaduto l'altro ieri. Invece no, questa è una storia che ovviamente ti riguarda, è una storia picaresca, questo è un romanzo on the road, che racconta due settimane a Ferragosto, nell'agosto calante del 1991, c'è questo ragazzino, questo Daniele, di 17 anni, che dopo una notta taccia al cocorico prende e se ne torna a casa sui castelli romani a piedi in autostop. Attraversa un pezzo d'Italia e fra l'altro attraversa soprattutto l'Umbria. L'hai scritto come se fosse successo l'altro ieri il romanzo, Daniele? Innanzitutto buonasera. Sì, nel senso che questi tre romanzi, io parlerò spesso al plurale, questi tre romanzi è accaduto questo paradosso, nel senso che questo che doveva essere il più remoto, il più lontano, il più difficile da scrivere, è stato difficile da scrivere, ma è venuto fuori in una dimensione che è quella esattamente del viaggio, nel senso che l'adulto che ha scritto il libro ha ricompiuto, ha svolto da capo il viaggio del 17enne e si è riscoperto dentro la scrittura, si è riscoperto, ha ritrovato una parte di quell'adolescenza del vivere che come dici te non finisce mai, che noi sotterriamo sotto mille strutture, mille convenzioni sociali, ma che poi basta veramente poco per ritirarla fuori. Quindi è stato un romanzo che mi ha messo in moto, mi ha fatto viaggiare, mi ha fatto rifare questo viaggio, ma anche rispolverato, anche riscorticato una certa parte del mio sguardo che io pensavo di avere anche addomesticato, perché poi uno dei traguardi barra illusioni che dà la maturità o presunta tale è proprio quello di essere riusciti a stabilire una distanza con quella parte di noi, se vogliamo anche più feroce, anche meno diplomatica. E questo libro, l'adulto che vi parla oggi può sembrare un paradosso, ma io mi percepisco così, è molto più simile al 17enne di 30 anni fa che non al 40enne di 7. E questo traspare, traspare anche perché io credo che nel tuo modo di raccontare, che ha pochi filtri, oddio, narrativamente ce ne sono tanti ovviamente, però arriva tutto molto velocemente quello che ci racconta Daniele, c'è molto anche dell'attitudine del 17enne che sei stato, questo non fare sconti, non fare sconti innanzitutto a se stesso, dico io, e non farli poi nemmeno al lettore, perché è il lettore che si trova pagina dopo pagina a piombare in dei corpo a corpo che tu vivi con le emozioni più radicali, la feroce di cui parlavi prima c'è sempre. Questo è un libro che gronda sentimenti primari, no? Bellezza, amore, paura e coraggio. Questo è un ragazzino molto più coraggioso di quanto non pensi, fra l'altro, di essere. Sì, è bello questo, ti ringrazio, l'ho detto istintivamente, perché sì, è un ragazzino radicale, come spesso sono radicali i 17enni, lui in più o in meno, questo è da capire, ha questo tarlo, nel senso nella sua vitalità, è assolutamente connaturato il tema dell'interrogativo. E quindi vive da adolescente, vive la ferocia dell'adolescenza con questa ulteriore ferocia, se vogliamo dire così, che è appunto quella di tutto sommato non dare già per esplorato il mondo, che è una dimensione che io spesso tento di condividere con chi è più giovane, e qui in presenza ci sono pure tanti ragazzi, quindi il mondo è stato esplorato, il mondo oggi è molto più piccolo di come era un secolo fa, due secoli fa era ancora più grande, tre secoli fa ancora di più, però poi questo non toglie che ognuno di voi, ognuno di noi, debba per diritto dovere compiere una traiettoria, una propria esplorazione del mondo. E diciamo che lui, rispetto a questo tema, vive addirittura un equivoco, vive se vogliamo una follia di fondo, perché questo è un ragazzino che manda a quel paese i due amici con cui è partito e con l'illusione, con un'illusione primaria, e con un'illusione se vogliamo adamitica, cioè in fondo lui rimane da solo con il pensiero, un traguardo impossibile da raggiungere, che è di poter scoprire, poter arrivare alle risposte rispetto al mondo. Cioè lui nelle prime pagine dice io mi sento, la mia vita è in palio tra tutto e niente, tra Dio e il caos, se questo viaggio, queste due settimane mi serviranno per capire, io arriverò a una risposta. E questo, se vogliamo, è una premessa fallimentare. Cioè questo libro che ha un andamento molto più evolutivo rispetto agli altri due, perché nella prima parte c'è tanta leggerezza, c'è tanto entusiasmo, c'è tanto coraggio rispetto all'esistenza, ma dal mio punto di vista, e ormai il libro è stampato o vale quanto il vostro, e per me è il libro per certi aspetti più tragico, perché evidentemente un ragazzo che parte con questo tipo di premessa, io in due settimane riuscirò a scoprire il mondo, riuscirò a stanare Dio, è un ragazzo che poi, come dire, realizzerà tutto il viaggio che è raccontato nei tre libri, perché tu mi insegni che noi siamo fatti per le domande, le risposte non appartengono al genere umano. E gli scrittori ancora di più, secondo me, sono fatti per le domande. Infatti, in qualche maniera, questa parabola di due settimane del Daniele di Sassettenne è un po' un allegoria anche, innanzitutto, forse anche dell'esistenza di chiunque, si parte con una voracità e anche delle aspettative che giustamente, viva Dio, sono ampie, poi pian piano si è costretti a ridurre, quantomeno, queste ambizioni. Gli scrittori in particolare non fanno altro che raccontare i poeti, a maggior ragione forse, che domandare, che cercare, senza la pretesa, probabilmente, almeno quelli più, secondo me, assennati di trovarle, queste risposte. Ma infatti è, come dire, può essere l'intento, può essere l'obiettivo soltanto che di un adolescente, però in questa dimensione adolescente, in realtà, tu giustamente hai detto, hai tirato fuori un aggettivo che fa parte del romanzo, cioè è una grande allegoria, però fa parte dell'adolescenza dell'umanità, perché poi, rispetto ai grandi temi, viviamo questo equivoco di fondo, cioè rispetto, tralasciando il tema spirituale, quindi, come dire, la preda più grande di tutti, che è Dio, ma in fondo noi, rispetto a certi temi, a noi non basta viverli da viaggiatori, cioè noi vorremmo possederli, possederli, a partire dal nostro destino, a partire dal tempo, dall'amore, e nell'adolescenza dichiarata di Daniele c'è appunto l'adolescenza dell'uomo, anche ottantenne, dell'uomo in quanto tale, dell'umanità in quanto tale, che da sempre, e ogni testo sacro, di ogni religione, ha un giardino che viene infranto dalla volontà dell'uomo di dominare questo giardino, di essere proprietario di questo giardino, e in fondo in questa volontà di Daniele c'è la volontà dell'uomo da sempre, dell'umanità, che appunto non accontentarsi della possibilità di godersi il viaggio. Questo è, secondo me, come dire, l'allegoria più grande. Però poi, diciamo, mi permetti anche di fare il punto su un altro elemento. Tu hai nominato la poesia e io, in questi tre romanzi, la grande scommessa, se vogliamo, da poeta è stata quella di trasferire dentro una lingua diversa, dentro registri diversi, i grandi temi esistenziali della poesia, perché in questi tre romanzi abbiamo un uomo che ringiovanisce attraverso i tre romanzi perché vanno a ritroso, ma nei tre romanzi, in fondo, io propongo al lettore i temi che sono cari ai poeti e alla poesia, i temi dell'esistenza e appunto la ricerca spirituale, il rapporto dell'umanità col sacro, il rapporto con l'amore, con la morte. Esattamente però come tanti poeti che non hanno paura di lavorare sul proprio vissuto, perché anche in poesia c'è questa ambivalenza, il vissuto dal secondo novecento in poi è diventato un elemento che tanti abbracciano e tanti respingono, per me perché prevale una letteratura borghese, lo dico molto sinceramente. Fino a Pasolini l'autore era anche quello che esibiva in maniera spesso spudorata al proprio io. Però io appartengo, mi permetto di dichiarare questa appartenenza, spero che i poeti che giacciono dormienti, non si ribaltino nella tomba, e io mi sento un'appartenenza in quei poeti, scrittori che vanno a caccia delle allegorie della realtà. Cioè è la realtà essere in primis allegorica. In fondo questo viaggio, che è un viaggio di iniziazione, che ha delle tappe per certi aspetti quasi scolastiche rispetto al tema del viaggio, inteso in termini drammaturgici, è un viaggio che c'è stato veramente, cioè quindi a me piace da scrittore ed artista scovare i momenti in cui il simbolo, in cui l'allegoria, in cui la retorica è sì dello scrittore perché poi i romanzi vanno scritti, questo ci mancherebbe, però a me piace andare a caccia dei momenti in cui è la realtà ad offrire questo doppio fondo, questo aspetto simbolico rispetto a quello che noi viviamo. Cioè c'è sotto sempre qualcos'altro, no? Esattamente. Soprattutto, io dico soprattutto nel momento in cui la realtà però viene raccontata, no? Perché vivendola, prenderne coscienza, non è facile, però nel momento in cui noi raccontiamo qualsiasi cosa, noi per forza di cosa poniamo, no? un principio di interpretazione. Mi inviti a nozze e io lo dico a tutti gli incontri, io mi definisco un aspirante credente, non so cosa sono, come direbbe Montale, né cosa voglio di preciso. e so per certo che provo grande pena per chi vive la realtà senza mai ingaggiare rispetto alla realtà questo aspetto che dici te. C'è un dato da interpretare, c'è qualcosa che probabilmente è interrogativa rispetto alla mia vita, chiede di essere interrogata, ecco, vivere la realtà è quasi a due dimensioni, come fosse un racconto vissuto da altre, è una cosa che a me spaventa perché non ho scelto, e qui ritorno al tema della poetica rispetto al tema della poesia e della poetica che ha un autore, non ho scelto appunto di vivere costantemente la realtà come alla ricerca ad una dimensione che percepisco, che presento, ma che non vedo, diciamo così. E senti un po', Daniele, dicevamo, questo ragazzo di 17 anni proprio a Ferragosto decide, anche con un colpo di testa in qualche maniera, di abbandonare i suoi amici dopo una nottataccia al Cocorico e parte a piedi per i castelli romani. Si accorge abbastanza presto, a dispetto della valigia gigantesca che si trascina dietro con lo verde pisello, si accorge di aver dimenticato tutto quello che gli serviva davvero, cioè i soldi e i documenti nella macchina degli amici. E quindi lui fa questo viaggio davvero nudo e poi pian piano a un certo punto si spoglia anche le sue averi quasi come un San Francesco ambulante, si toglie una delle cose che pensa che siano meno utili dai costumi da bagno poi arriva a buttare via tutta la valigia. Però i soldi non ce l'ha, i documenti non ce l'ha e non ha un orientamento reale perché lui non sa dove andare e io mi dicevo scrivendo questo romanzo scrivendolo così tu ti sei reso conto di quanto surreale potrebbe apparire adesso alla lettura di undiciassettenne di oggi che con quella genge in mano che non dimenticherebbe mai nemmeno sotto tortura avrebbe tutte le risposte alle domande anche minime che si fa Daniele nel romanzo. Cioè quel romanzo oggi non potrebbe quella storia oggi non potrebbe accadere perché nessuno probabilmente nato in Italia con la pelle bianca ecco diciamo che poi c'è tutto poi un mondo che si può aprire dove rispetto ai tanti mondi lo apriamo però tu dicevi i romanzi borghesi la poesia borghese comunque in qualche maniera parlando di questi ragazzi insomma che sono forse poco più grandi anche di del Daniele protagonista ci hai pensato no? a questo rapporto davvero un po' un po' surreale che ormai c'è anche solo col senso di orientamento che una volta noi dovevamo cercare di capire dove eravamo ogni quarto d'ora adesso basta premere un pulsante e ti dice di preciso esattamente dove sei e sì nel senso che e partendo dalla terza parte della dedica perché i tre libri per chi conosce i primi due o magari ha iniziato a leggere questo i tre libri compongono un'unica dedica che si compone libro dopo libro perché il primo la casa degli sguardi è dedicato ai lottatori nel secondo libro tutto chiede salvezza aggiungo un'altra categoria che è quella dei pazzi quindi ai lottatori e ai pazzi e terzo libro inizialmente doveva essere dedicato agli italiani però poi dentro di me e a parte poi c'è un personaggio che mi ha fatto immediatamente scartare questa dedica iniziale che è Amin il filippino e parliamo proprio di Terni poi guarda caso ma poi ho la certezza la pretesa la follia di pensare che questa storia sarebbe potuta accadere in qualsiasi altro angolo del mondo perché parto dal presupposto che l'umanità è una e la terza dedica è agli sconosciuti e vengo alla tua diciamo domanda l'aspetto secondo me più drammatico è non solo il passaggio da un'epoca a un'altra che ha facilitato la nostra relazione col mondo oggi un ragazzo come dici te Google Maps a parte io con Google Maps mi perdo sempre e quindi io non faccio testo però qualsiasi difficoltà e hai appunto hai questo libro dei perché ambulante a cui puoi chiedere un po' tutto non solo ma anche i tuoi genitori in fondo possono sapere tante più cose di te io faccio un esempio per questi ragazzi che stanno nelle prime file io sono stato un vostro coetaneo che al telefono a gettoni nella piazza del mio paese chiamava la madre per dire guarda mamma vado a dormire a casa del mio amico casa distante dalla mia 4 km in linea d'aria io mi facevo 15 ore di treno per andare a ballare a Monaco di Baviera questo per dire com'era il mondo analogico ma ritornando al romanzo la cosa che abbiamo più perso è che c'è una sapienza c'è una salvezza c'è una ricchezza che non è solo quella che deriva dalle nostre strutture sociali dalle nostre relazioni dalla buona o cattiva educazione da quello che noi pianifichiamo per la nostra vita c'è una grande ricchezza che arriva dagli sconosciuti che arriva dall'imprevisto che arriva da quello che non sta nel racconto che noi già abbiamo preparato della nostra vita e questa dimensione l'uomo contemporaneo l'ha totalmente persa cioè l'uomo contemporaneo vive ciò che non conosce grazie anche a tanta politica maledetta mi verrebbe da dire per usare un termine forte che ha reso ciò che arriva da fuori ciò che non è previsto né più e nemmeno di un pericolo da combattere e l'adulto che vi parla a prescindere che è diventato uno scrittore tutto quello che è avvenuto dopo la persona che vi parla e non esagero e non è retorica non è metaforica la questione ma è proprio organica diciamo così concreta è stato salvato dagli sconosciuti è stato salvato da persone che hanno messo anche a rischio probabilmente la loro incolumità per salvarmi e la nostra vita la vita dell'uomo in fondo si fonda su due grandi fondamenti da una parte c'è l'educazione la famiglia le strutture c'è quella parte più stabile della nostra vita che per carità lavora per noi quando siamo fortunati ma esiliare quest'altro fondamento fondamentale cioè che ogni giorno è fatto per incontrare ciò che non aspettiamo è secondo me un delitto perché nella mia vita e questi tre romanzi lo raccontano nella mia vita la mia vita l'uomo che vi parla oggi è sì la somma di tante letture tanti libri tanti maestri tanti poeti ma lo è ancora di più grazie a quei 50-60 incontri a partire da questo libro assolutamente non preparati che hanno cambiato il corso della mia vita e l'idea che ciò che non si conosce che l'altro l'altro sia fondamentalmente un pericolo da evitare è semplicemente una follia cioè vivete l'altro sì con attenzione ma anche come fonte di grande curiosità e arricchimento perché altrimenti la vita diventa anche molto triste diventa cosa diventa un racconto entro un perimetro un racconto dentro un perimetro e viviamo con la percezione che tutto sia governabile che tutto sia comandato da noi poi scoppia però e pensate soltanto a quello che portate di fronte al viso scoppia una pandemia che vi racconta che cosa che in realtà il racconto del mondo è un racconto poi il mondo è come il viaggio del protagonista è lui a stabilire le tappe del viaggio noi possiamo fare meravigliose cartine poi quando il viaggio comincia la cartina spesso diventa una carta utile per fare qualcos'altro e qui mi silenzio hai detto tante cose tante cose molto sagge Daniele è vero noi pensiamo di poter avere tutto sotto controllo e questo è il grande forse equivoco che ci porta anche a pensare cose sbagliate ma anche alla nevrosi molto spesso ovviamente è frustrante esatto da avere le chiavi in mano del tuo futuro poi evidentemente quando il destino fa la sua parte tu dici ti nevrotizzi perché ma sei tu che pensavi di avere un solco già scritto scusa se no 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 ma figurati fra l'altro hai detto già quasi tutto quello che secondo me si potrebbe dire sul parallelo più immediato dicevo prima nessuno potrebbe farlo siamo subito fermati guardandoci tra di noi tra questi qua che siamo qua adesso a parlare del libro in realtà tutti i giorni oggi stesso c'è molta gente che fa viaggi simili e ancora più drammatici di quelli che ha fatto il Daniele di 17 anni ecco magari molte di queste donne questi uomini in realtà il cellulare ce l'hanno io parlando del mio vecchio libro che è una storia di migranti tra l'altro quasi sempre facevo l'esempio della demagogia sciocca su chi dice ah questi che ciondolano tutto il giorno col cellulare in mano come se il cellulare fosse un bene di lusso queste gente che partendo da migliaia di chilometri da qua per fare un viaggio interminabile pericolosissimo hanno veramente come bene più prezioso quel telefono che gli dice un po' dove sono dove possono andare che gli permette di parlare una volta al mille con le famiglie insomma quindi però a parte il telefono forse veramente non c'è nulla che abbiano molte di queste persone quindi per certi versi calarsi nella storia di Daniele è anche calarsi secondo me nelle vicende di queste donne e questi uomini che come dicevi poi arrivano e ci sembrano dei pericoli per il semplice fatto che hanno una storia diversa alle spalle e che magari li vediamo arrivare nelle condizioni in cui gli ultimi sconosciuti che incontrano Daniele vengono a arrivare lui cioè cincioso no? e un po' sfiancato dalla vita sì perché ritorno al tema del viaggio è Daniele che parte senza soldi e documenti perché se li è dimenticati diciamo nella prima parte del romanzo sente in qualche modo d'aver vinto e in fondo viaggia sulle ali dell'entusiasmo perché il suo grande nemico iniziale lui che scopre appunto di non avere soldi e documenti è la timidezza e vedo tanti ragazzi e mi fa molto piacere nelle prime file immaginatevi voi senza soldi documenti senza cellulare a dover chiedere a degli sconosciuti non solo un euro per una bottiglia d'acqua o qualche euro in più per un panino ma chiedere mi fai dormire a casa tua perché? perché la prima notte che Daniele passa è una notte in cui lui dorme all'aperto ma le notti all'aperto non so se voi le avete mai fatte le notte all'aperto senza attrezzatura senza una tenda senza un sacco a pelo sono facili da passare soltanto nei film io ho dormito le notti che racconto il romanzo e poi successivamente anche altre all'aperto senza attrezzatura il problema è quando ti svegli il problema è quando ti svegli perché tanto ecco se uno non si prende una polmonite in realtà il Daniele però della prima parte del romanzo a un certo punto riesce a chiedere aiuto le persone che incontra stupendosi per prima dell'aiuto che danno a Daniele aprono la loro casa lo accolgono e Daniele tutto sommato crede di aver addomesticato il viaggio dice ma guardate quanto son forte potrei farlo per tutta la vita addirittura poi c'è un po' che non vi racconto nella seconda parte del romanzo Daniele viene letteralmente divorato spogliato vivo dal viaggio fino ad arrivare a questa affermazione io rischio di morire di sete in provincia di Roma nell'anno del Signore 1991 e quindi andando a creare un parallelismo rispetto a tutti quelli che rischiano di morire di sete e di fame nell'anno del Signore 2021 perché la realtà è un'arena enorme noi ne viviamo uno zero virgola ma nella nostra realtà attuale nella nostra Italia del 2021 c'è gente che in questo momento se tu vai in giro in tanti luoghi vedrai che c'è gente che rischia di morire di sete e di fame e rispetto al tema del viaggio io ho una grande fortuna che mi hanno dato questi romanzi essendo io diciamo io ho vissuto tante ho vissuto varie forme di stigma quella del malato mentale ma anche quella dell'alcolizzato del tossico quindi diciamo non ho grandi problemi nei giudizi ma ho una fortuna enorme in questo periodo girare tutta l'Italia e conoscere tante persone che vivono oggi le varie forme di stigma sociale e ultimamente ho avuto anche la fortuna prima in un carcere poi in un'altra parte di sentire storie di ragazzi africani e quando io di fronte a tanti ragazzi ho avuto la fortuna di accogliere le loro storie io alla fine del loro racconto e non era retorica io dicevo guarda io le so scrivere ma tu sei un maestro di storie perché chi arriva dall'Africa e voi immaginate che chi arriva dall'Africa da certe zone dell'Africa vive il Mediterraneo che magari il luogo in cui morirà lo vive come una passeggiata perché prima hanno attraversato il deserto hanno attraversato il deserto e ottimamente con alcuni amici mi hanno raccontato di questo ragazzo senegalese quando passi per esempio il deserto diventa una dimensione assolutamente interiore onirica del viaggio questo ragazzo senegalese erano in dieci sono arrivati in sei loro si chiedevano tra loro ma siamo ancora vivi proprio perché diventa qualcos'altro ecco quando io ad esempio al carcere d'Alessandria per un incontro che ho fatto legato al salone del libro di Torino alla fine dell'incontro dentro questo carcere di media sicurezza con 70 detenuti io le ho ringraziati perché perché poi per chi scrive e non solo ma per chi vive in genere il confronto con chi ha certe storie da raccontare cioè poi la vera domanda che io faccio a voi ma per cosa viviamo cioè nel senso io personalmente vivo e non l'ho chiesto non ho chiesto di vivere con questa curiosità ma io vivo per sentire queste storie cioè io vivo per accogliere queste io vivo per fare questi incontri per incontrare queste persone perché perché è un arricchimento incredibile perché certe storie che che ne dicano certi autori certe storie le devi vivere le devi attraversare come i deserti e quindi io vi invito a nel momento in cui vedete qualcuno che è diverso da voi è diverso da voi per colore della pelle per tutti i motivi del caso ma rovesciare il timore in curiosità chiedere ma tu come sei arrivato qui magari il ragazzo dell'età vostra quello che ha abbandonato quello che che non ha più a disposizione e c'è un dato che poi ti ridoro la parola c'è un dato che a me interessa ribadire non è che la nostalgia di casa o della propria madre la viviamo soltanto noi occidentali cioè la madre è madre in quanto tale per i mammiferi e quindi per gli umani quindi entrare nell'ottica che chi arriva da lontano ha lasciato tanto il protagonista del libro a un certo punto dice voglio tornare a casa immaginate tutti quelli che per tutti i motivi del caso non possono tornare a casa ma ogni uomo anche chi parte da situazioni devastate ha poi il desiderio del ritorno a casa ed è drammatico andarsene molto spesso per loro insomma allora io nell'ambito dello stesso progetto sono stato in un riformatorio di Torino al Ferrante Aporti con dei ragazzi dai 14 ai 23 anni e mi assicuro che per me è stata l'esperienza più intensa in assoluto della mia vita negli ultimi anni senza senza dubbio e fra l'altro non sempre è semplice farsi raccontare le storie dalla gente come dicevi tu che sente addosso anche lo stigma però nel momento in cui si apre un canale di comunicazione poi ti arriva tutto ti arriva veramente tutto il protagonista di sempre tornare incontra questi sconosciuti che in un attimo però gli si aprono innanzitutto perché evidentemente c'è qualcosa in lui che lo porta lui dice a un certo punto la mia corteccia è di burro è una definizione meravigliosa che era di se stesso che ha a che fare con quello che dicevamo all'inizio sulla primarietà dei sentimenti evidentemente si vede no e secondo me anche ti dico la verità anche personalmente per il poco che abbiamo avuto a che fare io e te si vede che con te empatizzare viene naturale perché c'è qualcosa che emana direttamente dal nucleo della tua persona lui entra in contatto subito anche con i demoni però di questi sconosciuti lui incontra una decina più o meno di persone e incontra altrettante disperazioni in qualche misura e per certi versi l'affresco che si fa dell'umanità che incontra Daniele è spietato sì ed è spietato ed è un affresco mi verrebbe da dire zoppo monco mai incompiuto e però ritorno ritorno a quella magnifica dimensione dell'incontro e appunto dell'incontro con ciò che arriva da fuori che non è previsto che che bypassa tutta una serie di convenzioni in realtà io ribalto la tua domanda nel senso che noi molto spesso all'interno del nostro tessuto relazionale quello stabile quello fondante quello come dire familiare educativo scolastico istituzionale il problema vero è che noi in realtà lì dentro siamo pieni di censure di autocensure poi quello che accade spesso con lo sconosciuto e quindi con quello che in realtà non può non può sminuire non può intaccare il racconto che noi facciamo di noi all'interno delle convenzioni sociali cioè con chi arriva da fuori e che probabilmente nella nostra vita è una meteora è qualcuno che si accende che diviene improvvisamente scusate questo neologismo ascoltante e con lui probabilmente siamo disposti a fare una serie di confidenze che non potremmo mai fare all'interno delle nostre convenzioni ma questo per me è semplicemente vero cioè nel senso che e lo dico come appunto persona che poi avendo vivendo vivendo un po' in modo scisso la propria personalità cioè vivendo vivendomi da solo con grande difficoltà nel senso il Daniele che vive in solitudine appunto è un Daniele che deve omeopaticamente vivere con se stesso a piccole dosi perché poi il rischio è di cadere costantemente dentro i propri demoni probabilmente è proprio questa disponibilità che uno dà proprio perché sa che i demoni non stanno fuori ma dentro che permette all'altro di trovare un humus trovare un terreno come dire fertile per dialogare e per confessarsi però e lo ridico ai ragazzi delle prime file ho fatto una testa così però appunto il mondo digitale che è meraviglioso per mille motivi io sono un convinto progressista la mia vita un secolo fa se io fossi nato non nel 1974 ma nel 1874 venendo da una famiglia di lavoratori proletaria la mia vita sarebbe stata come dire agguantata da certe realtà terribili come i manicomi soltanto per dirne una o probabilmente non avrei avuto accesso all'alfabetizzazione come era ancora a fine ottocento quindi chi più di me ringrazia il progresso c'è un però che mi permetto di dire e questo lo rivolgo anche ai genitori anzi lo rivolgo soprattutto a quest'ala di qua non so perché c'è una specie di gioco anagrafico involontario che noi noi perché io poi ho due figli che noi oggi viviamo un po' questa strana dicotomia e percepiamo la realtà esterna come una realtà che è stata corrotta dal tempo quello che facevamo noi da ragazzi non si può più fare non si sa bene per quale motivo però poi e lasciamo libertà di vivere i nostri figli nella loro realtà digitale realtà digitale che spesso è molto più pericolosa della realtà che non è cambiata che non è cambiata anzi anzi ecco perché prima dicevo tanta pessima politica rispetto alla realtà che vivevamo noi da ragazzi e non lo dice non lo dico io o Giovanni lo dicono i dati del Ministero dell'Interno e la realtà è molto più mansueta rispetto a quando noi eravamo giovani certo cioè questo è il paradosso noi raccontiamo ai nostri figli la realtà è cattiva la realtà inquina la realtà la devi vivere il meno possibile li facciamo vivere nella loro stanza spesso da soli dentro la loro realtà digitale invogliamoli anche un po' di più poi a stare nella realtà vera perché poi numeri alla mano che che ne dica Salvini non voglio entrare in politica ma la realtà la realtà di oggi è una realtà che numeri alla mano in termini di reati in termini di pericoli è molto più sicura di quella di quando io ero ragazzo io sono un ragazzo che è stato tale è stato ragazzo negli anni 90 non parliamo degli anni 70 non parliamo degli anni 80 quindi la realtà non so come sono arrivato a parlare di questo io diciamo sono uno che quando inizi a parlare apri mille parentesi non ho mai chiuso una in vita mia però è per dire che appunto c'è questa idea di c'è questa certezza la realtà serve all'uomo per scoprirsi attraverso gli altri altrimenti restiamo un po' avatar per usare un termine che è già vecchio e avatar di quello che siamo veramente e invece la realtà serve appunto a entrare attraverso gli altri meglio dentro noi stessi e senti Daniele questo comunque è un romanzo anche divertente c'è c'è molto dolore davvero c'è molta bellezza c'è l'amore inevitabilmente in un viaggio che arriva anche subito tra l'altro veramente un quarto d'ora a innamorarsi di questa ragazza bellissima però è divertente è divertente perché poi è anche divertente l'aura che si porta dietro in qualche maniera Daniele uno lo può immaginare bene questo 17enne romano che cerca di non parlare troppo il romano ma ogni tanto qualcosa gli scappa lo riconoscono subito e quindi e c'è questo atteggiamento che è timido però meno timido di quanto lui stesso ritenga perché questo è uno che se scappa da Cocorico perché comunque aveva abbordato una è finita male però insomma uno che abborda una sconosciuta comunque così timido tutto sommato sì aveva un tasso colemico che è misurato oggi secondo me avrebbe vinto un peluscia secondo me aiuta e no però no perché perché altrimenti no insomma io mi metto sempre anche nei panni di chi ascolta diciamo bello bello però intenso è un romanzo intenso davvero però però senza scomodare l'abuso diciamo del concetto di leggerezza calviniano è divertente è un romanzo che ti riverti a leggere e quindi c'è anche questo perché poi la letteratura non sempre deve essere un piacere io dico che a volte uno per leggere deve anche mettere in conto di riversi a annoiare faticare perché poi la lettura te deve portare in molti posti e non sempre sono posti così piacevoli però questo è anche un romanzo divertente sì do due risposte nel senso prima tu hai nominato la timidezza e mi rivolgo sempre ai ragazzi delle prime file perché perché lui si ritrova da solo senza soldi al terrore di dover chiedere aiuto ma lui in realtà aiuto non l'ha mai chiesto lui in realtà vive e questo riguarda tutti quanti noi vive un po' ed è un fatto psicologico ognuno di noi ha una percezione del proprio io di quello che è o che non è ma poi è la realtà che accade che ti dice quello che sei veramente in quel determinato momento perché poi conta solo quello perché magari quello che sei in quel determinato momento non lo sei cinque minuti dopo però lui in realtà scopre come decide di essere di essere meno timido e questo in realtà porta nel romanzo un vento proprio di leggerezza perché perché lui a parte a 17 anni è uno che vive e con anche spensieratezza per quanto possibile per quanto dato dalla sua natura ma poi è uno che non riesce a non è uno molto ironico non riesce a non sorridere dico una cosa rispetto ai primi due romanzi ed è quello prima dell'incontro con Giovanni stavamo parlando della mia estate della tua estate è un po' pesante la mia per vari motivi la cosa che a me terrorizzava un po' di questo romanzo è che proprio rispetto ai primi due ha una prima parte molto più leggera ma come dici giustamente te la letteratura è uno scrittore secondo me è quello che deve saper fornire non solo tanti toni ma anche tante vicende che hanno una loro complessità diversa che hanno che che sappiano anche far ridere io non rido mai quando scrivo e devo dire neanche piango mai nel senso cerco c'è un autore quello che deve essere Montale diceva deve essere commovente il testo non commosso il poeta perché se no il rischio è che sia commosso solo lui però c'è una battuta che vi riporto perché io lì ho riso e ogni tanto ancora quando ci penso perché poi ho un'immaginazione molto teatrale metto in scena evidentemente quello che scrivo il giovane protagonista del romanzo Daniele dopo aver attraversato tutta l'Italia finalmente arriva nel Lazio in realtà arriva distrutto arriva che veramente anche fisicamente è molto provato ha avuto una febbre altissima a un certo punto sente un odore sente un odore uno scorrere impetuoso dice questo e gioisce perché dice questo non può che essere il Tevere e attraversa questo fiume su questo ponte dall'altra parte un vecchio in bicicletta che inizia proprio appena montato quindi sta ancora facendo fatica a prendere il ritmo lui lo blocca il vecchio quasi cade riesce a rimanere in piedi e questo ragazzino poi anche un po' soggetto come si dice a Roma gli fa scusi questo è il Tevere e il vecchio da romano gli fa no è il Nilo questo per dire che poi c'è questa anche con veleno per dire che poi anche per me è stato anche da autore la scommessa proprio restituire quei controtempi e qui perugini ternani e romani hanno molto in comune quei controtempi che appartengono un po' ai nostri caratteri linguistici e mi permetto di dire anche ai propri umani allora visto che l'hai tanti interrogati questi ragazzi ti sei tanto rivolto a loro c'è qualcuno non solo tra i ragazzi ovviamente ma tra il pubblico che vuole chiedere qualcosa a Daniele abbiamo un microfono sanificato e che sarà risanificato a ogni domanda ci garantisce c'è una mano in prima fila ho il dito ma la benazza buonasera innanzitutto complimenti ho divorato i suoi romanzi oggi ho finito sempre di tornare grazie complimenti e volevo sapere questo che rapporto c'è nella sua storia personale letteraria tra la poesia e il romanzo cioè come diciamo c'è stato questo cambiamento cos'è che ha spinto insomma mi interessa questa cosa ma diciamo prima c'era Maria Grazia Calandrone che è una grande poetessa contemporanea e io dico sempre che poesia è un singolare universale nel senso che esistono tante poetiche e tante poesie diverse io già tendenzialmente tendo a essere un poeta molto narrativo e la mia radice in termini di scrittura letteraria in realtà e credo sia la radice di tutta la letteratura è il teatro è il teatro e quindi una scena che viene messa in scena e che si compie perché io credo sinceramente che il grande autore è quello che non descrive minuziosamente un sentimento per me il grande autore è quello che riesce a cogliere a costruire la scena in cui il suo attore esprime il sentimento nella sua massima misura attraverso quello che fa cioè per me l'azione è quella che esprime nella misura massima ognuno di noi e quindi questa radice teatrale per me è stata ovviamente innanzitutto una radice che ho portato nella poesia nella poesia come ma se noi vediamo il novecento italiano il novecento in realtà mi viene in mente Elliot cioè in realtà la grande la poesia che io amo è proprio il compiersi di una scena è una scena che viene costruita a un certo punto nella scena viene calato l'attore nel momento in cui la scena entra in azione nel momento in cui l'attore compi la scena rivela a se stesso e al lettore qualcosa e questo è un po' rispetto alla poesia però sono sempre stato attratto anche da quella narrazione che prevede un'architettura di scene che prevede uno svolgersi di scene poi per motivi professionali per motivi di lavoro io negli ultimi vent'anni fino a un anno fa io ho lavorato mi sono occupato di prodotto audiovisivo ho letto qualche milione di pagine di sceneggiature di film e cinema e questo in qualche modo ha approfondito alcuni temi rispetto alla drammaturgia rispetto alla gestione dei personaggi questo però è venuto dopo inizialmente lo ribadisco per me la grande scommessa è sempre rispetto a quello che si mette in scena cogliere i nostri personaggi nel momento in cui fanno e se io penso alla letteratura alla cinematografia alla poesia cioè se io penso a Caproni e penso a ultima preghiera di Caproni Caproni è uno che si parte anima mia ti prego fa in fretta ma poi quest'anima la mette su una bicicletta cioè quindi fa attraversare Livorno questo elemento assolutamente ineffabile che è l'anima però poi gli fa percorrere un percorso che è assolutamente concreto e poi la scommessa vera invece rispetto ai temi è appunto pensare che la grande scommessa che ho fatto dentro questi romanzi è partire da un presupposto che l'uomo contemporaneo come qualsiasi altro uomo nato in altra epoca ha una fame fottuta di dialogo con la propria natura e oggi il dialogo con la nostra natura è diventato pericoloso è diventato pericoloso perché un uomo che in qualsiasi ecco ritorniamo i dialoghi tra sconosciuti e invece i dialoghi diciamo strutturati all'interno dei nostri delle nostre varie situazioni sociali oggi parlare della nostra natura è pericoloso c'è oggi parlare di morte di tempo parlare di destino esprimere anche l'inquietudine la preoccupazione il malessere rispetto a questi temi diciamo viene percepito come un alert che rimanda immediatamente a qualcos'altro a un disturbo ma la letteratura serviva in realtà a dialogare con noi proprio su questi temi quindi la scommessa sui contenuti è stata quella di prendere questi temi della poesia e scriverci tre romanzi altre domande tra i giovanissimi c'è qualcuno va così sollecitato Daniele voi avete avete letto il mi chiedevo il perché di questa folta presenza è anche compatta di ragazzi c'è un motivo l'avete letto a scuola che secondo me dietro c'è qualche professoressa è così? eccola vedi chiamata in causa volevo esimermi ma allora confesso di fronte a tutti che ho avuto una folgorazione l'anno scorso durante l'estate dove mi concedo la libertà di leggere quello che mi piace fermo restando che insegno la letteratura italiana e quindi diciamo l'ottanta al novanta per cento di quello che spiego in classe mi piace follemente però diciamo che mi guardo intorno nella diciamo narrativa contemporanea che ahimè non si riesce mai a trattare in classe e raramente mi capita di incontrare per via nella narrativa contemporanea autori come Mencarelli ecco questa è la prima dichiarazione proprio di apprezzamento totale tutto chiede salvezza è stata veramente una folgorazione e mentre lo leggevo io pensavo ai miei ragazzi che sono liceali che vanno dai 14 ai 18 19 anni non perché siano pazzi ma perché diciamo in nuce c'è quell'umanità che ahimè sempre di meno il mondo adulto riesce a scorgere e mai avrei immaginato di poter condividere la lettura di questi romanzi fino all'ultimo con alcuni dei miei studenti quindi quest'anno vedendo che in calendario c'era ci sarebbe stato Mencarelli ho osato ma li ha portati qui sotto minaccia anche d'arma da fuoco assolutamente no e io credo che sia stata veramente una sfida perché poi di sabato sera diciamolo gli adolescenti per gli adolescenti il venerdì e il sabato sera giustamente in un sabato sera tra l'altro festivo quasi e quindi quelli che vede qui sono ragazzi di terza e quinta liceale che hanno non ho fatto pressioni di alcun genere hanno risposto a una proposta loro vengono a teatro noi andiamo a teatro quindi diciamo che viviamo la scuola in modo molto aperto ecco e io mi sento onorata stasera ho veramente dei brividi nonostante non sia freddo perché vedo questi ragazzi estremamente attenti come non si potrebbe fare diversamente mi chiedo io e quindi percepisco l'interesse ma è l'interesse sicuramente per la letteratura una letteratura contemporanea non accade mai di incontrare gli autori che si studiano in classe e poi sento da loro li conosco che stanno cominciando a capire che la letteratura è veramente quella magia che parla sempre di noi in qualsiasi epoca e qui mi taccio e ringrazio pubblicamente ufficialmente mi permette di dire solo due cose veloci la prima è sull'inquietudine io ho un fratello e una sorella più grandi con due figli ormai ultraventenni e avendo io alle spalle appunto temi come la dipendenza piuttosto che tutto il resto io fino a qualche tempo fa venivo chiamato come maestro come possibile educatore per calmarli poi quando mio fratello e mia sorella hanno capito che io in realtà ogni volta che li vedevo facevo il contrario cioè quindi l'inquietà dicevo scommetti su questa inquietudine hanno smesso di chiamarmi perché il tema dell'inquietudine è un tema straordinariamente importante mi verrebbe da dire che triste l'uomo che è sempre soddisfatto da una parte e invece rispetto alla letteratura e vedendo purtroppo queste maschere arriveremo anche al giorno in cui ci rivedremo anche senza maschere parlo per voi per voi che state dall'altra parte noi abbiamo la fortuna di stare senza io quando avevo la vostra età io ricordo rispetto alle parole della prof l'ultima rispetto alla letteratura che parla di noi e io me lo ricordo i primi momenti in cui mi sono sentito accolto da uno sconosciuto che mi parlava attraverso un libro io me li ricordo quei momenti come fossero avete presente voi giovani senz'altro sì magari gli incontri con i primi amori cioè te te lo ricordi dove hai incontrato quell'amore la prima volta al bar piuttosto che in discoteca piuttosto che all'oratorio e io me lo ricordo dove ho letto alcuni poeti la prima volta nel senso ricordo proprio il luogo perché ad esempio a proposito di inquietudine di vitalità per un ragazzino che viveva un incendio interiore cioè viveva veramente in una condizione di grande difficoltà io ricordo dove ho letto la prima volta Dario Bellezza e cito poi in realtà mi è venuto in mente dopo io nel libro dico a un certo punto faccio la cita cito un verso di Dario Bellezza so solo la bestia che in me latra e io me lo ricordo perché perché io avevo la stessa percezione cioè io sentivo un'inquietudine sentivo dentro una bestia che la trava cioè quindi sono questi momenti che fanno scattare l'amore per la letteratura tante volte e mi permetto di fare questo ragionamento perché mi ci porta lei professoressa e analizziamo quello che lei ha detto lei in realtà ha proposto la letteratura il viaggio della letteratura mi permetto di dire anche il viaggio un po' più ampio dell'arte ha parlato di teatro partendo da un presupposto attivo cioè partendo da qualcosa di positivo che lei riesce a fare diciamo che io in moltissimi incontri vivo tanti suoi colleghi che partono dal presupposto passivo negativo cioè quindi iniziano a dire la prima affermazione è i miei alunni non vivono la letteratura e in realtà il non vivere la letteratura quello che tento poi di spiegare ai professori ma da semplice osservatore non sono un professore è che probabilmente lei per attivare loro rispetto alla letteratura lei li ha attivati partendo da una sua attivazione umana psicologica cioè partendo da un dato la letteratura è importante per lei è molto difficile insegnare qualcosa qualsiasi disciplina che non è in primis importante per noi cioè questo è un po' il problema cioè se uno un professore tenta di trasmettere io dico sempre che la letteratura va passata accesa è come una fiamma se uno non la passa accesa poi non possiamo dire ai nostri ragazzi perché perché ma già il fatto che uno premette la sconfitta loro tanto non mi seguono probabilmente prova a partire a invertire ad attivare i ragazzi con una premessa positiva seguitemi cioè leggiamo una cosa io infatti poi quando mi chiedono qualche consiglio io dico fottetemene dei programmi per quanto possibile scusate termine parti dalle letture che hanno formato la tua la tua adolescenza e magari lì vedrai che c'è una risposta allora 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 direi che ci siamo quasi l'ultima cosa che ti chiedo Daniele allora Daniele fra l'altro ha pubblicato il suo il suo primo romanzo della trilogia la casa degli sguardi e con questo romanzo ha vinto il premio Severino Cesare è stato il primo vincitore del premio Severino Cesare che è un premio della regione Umbria collegato evidentemente a Umbria Libri un premio molto bello molto importante secondo me perché è un premio che riesce anche attraverso poi la valutazione di una giuria composta da alcuni tra i più grandi scrittori italiani e intellettuali italiani credo che riesca a trasmettere non solo un sostegno concreto che è importante per uno scrittore comunque che sta iniziando ma anche una forma di accreditamento un'apertura di credito un senso di autorevolezza che arriva subito insomma Daniele probabilmente tra i vincitori fra l'altro del Cesare è quello con più stoffa secondo me ma questa è un'opinione mia personale io da due anni sto in giuria fra l'altro io mi permetto di dire Giovanni solo una cosa io il premio Severino Cesare per me non è stato importante per me è stato decisivo ma perché scrivere basta entrare in libreria l'offerta libraria è bulimica è straripante e e non è che qualità e successo anzi corrano sempre di pari passo e il mio libro stava scomparendo perché per un grande editore in fondo pubblicare un libro è un investimento microscopico cioè tirare ormai poi col digitale tirare 3.000 copie di un libro lavoro di grafica distribuirlo alla meno peggio è un investimento di poche migliaia di euro e lavorano sulla quantità e il mio romanzo e quindi tutto il mio futuro perché poi tu lo sei meglio di me si nasce si esordisce poi diciamo dal primo libro uno prova a costruire un percorso e il mio lavoro sarebbe veramente finito nel dimenticatoio e io finisco la trilogia guarda quanti strani corsi e ricorsi finisco la trilogia con un libro dedicato all'Umbria perché poi l'80% del libro si svolge in Umbria e dirò un'altra cosa che questo libro poi vedremo come dove quando e perché ma l'ha preso Paolo Genovese per farne un film e perché Paolo Genovese ecco perché perché eri a Todi a presentarla perché poi Paolo Genovese è diventato ma voi sentite quanti strani è diventato il presidente della Film Commission della regione Umbria Umbra e ma anche nella mia vita l'Umbria è stata importante ancora prima dei libri perché per questo viaggio cioè perché io ho conosciuto e non solo i paesi Umbri ho conosciuto la gente Umbra cioè le case che che mi sono state spalancate l'ospitalità è stata un'ospitalità che è è stata dentro questa regione e io poi ho vinto il Severino Cesare in Umbria e quindi io mi come dire scommetto su un dato della realtà che appunto tante cose siano segni e tanti piccoli segni ci portano qui stasera a parlare tra noi bene 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 allora la cosa che volevo chiederti era una volta che si chiude il cerchio della trilogia no? e lo lo dichiari no? lo certifichi che succede adesso? ma succede succede che continuerò a lavorare innanzitutto ad accogliere storie di tante persone che non si possono raccontare questo mi sembra un dato che la letteratura contemporanea è un po' a pezzo cioè ecco faccio solo questo discorso tre ore ho finito quindi proprio veloce cioè se tu vedi l'autore contemporanea un po' questa strana schizofrenia non esibisce più niente di sé ha un vissuto totalmente privato da burghese no? c'è un vissuto che non condividerebbe mai però è un osservatore non livido spesso sadico rispetto all'umanità che incontra cioè raramente io leggo libri in cui l'osservatore e quindi lo scrittore racconta un'umanità che sente orizzontale rispetto al suo sguardo io sento tanti autori che raccontano un'umanità un po' come dentro un acquario e tutto questo per dire che continuerò a a tentare di raccontare esperienze che io comunque ho vissuto in chiave orizzontale cioè la letteratura che io amo ed è quasi tutta poesia io mi vergogno a dirlo ma per buoni 15 anni io ho letto solo poesia e se voi prendete la grande poesia del novecento soprattutto del novecento italiano è stata una grande poesia perché perché i poeti raccontavano esperienze che vivevano alla pari dell'umanità che raccontavano cioè se tu prendi esempi scolastici un garetti in guerra se tu prendi tutta la grande poesia anche rispetto al tema della malattia mentale prendi la Merini era uno sguardo che non voleva essere più alto era uno sguardo che condivideva la stessa terra e vorrei continuare a mantenere questo sguardo terrestre rispetto a quello che racconto benissimo e noi ti aspetteremo Daniele grazie mille a tutti grazie a Daniele e a meccanelli leggete sempre tornare grazie a Ombre Libri che continua stasera e domani buona serata grazie a voi grazie Giovanni grazie a tutti Grazie a tutti.